La misura è colma. No, non sto parlando soltanto dello spot di Lampedusa, dove da stamattina si susseguono immagini che mi stanno facendo vergognare del mio paese. La misura è colma delle scuse, delle arrampicate sugli specchi, delle idiozie di una classe politica indegna ogni volta che viene smascherata per quello che è. Indegna, appunto. Perché di fronte al caos migranti di queste ore, il governo, quello del blocco navale, ricordiamolo sempre, mi sembra che non sia riuscito a partorire altro che scuse e idiozie. A rompere il mutismo selettivo che avvolgeva queste ore è stato lui, Matteo Salvini. Un po' sottotono da quando si è insediato sto governo. Gli hanno dato il plastico del ponte sullo stretto così che lui fosse concentrato a giocare piuttosto che a dire stupidaggini. Ma alla fine, di fronte al caos migranti, è stato più forte di lui. La stupidaggine l'ha dovuta di. C'è il gomblotto. Il gomblotto dell'Europa. Eh, Salvini è furbo, ha capito tutto. C'è una regia europea che vuole colpire Giorgia Meloni. Prima sulla questione migranti c'era il gomblotto de Soros. Poi c'è stato il gomblotto della Wagner. Crosetto, altro peso massimo. E adesso c'è il gomblotto dell'Europa ai danni della povera Giorgia. E che l'area del complotto fosse già bella che apparecchiata per rispedire al mittente ogni critica, ogni accusa, ogni evidenza di carenza di questo governo, lo aveva detto Giorgia in persona all'Assemblea di Fratelli d'Italia. Nel prossimo periodo gli attacchi si intensificheranno e ci attaccano perché diamo fastidio. Danno fastidio. Ahahahah! Ma dai, ma non fa riderissimo. Fare satira con questi è inutile perché questi sono imbattibili. Chi è che fa satira meglio di loro? Danno fastidio, eh? Ma a chi? In quale multiverso? Questo sarebbe un governo che pesta i piedi a qualcuno e dà fastidio. Quando si comporta in realtà da perfetto, utile e idiota, messo esattamente a fare quello che ai piani alti si vuole che faccia. Il gomblotto europeo ai danni di Giorgia. Ma il gomblotto europeo ai danni della nostra nazione è da anni ormai che c'è. Cosa pensate che la tengano a fare l'Italia in Europa se non per perire alla questione migranti? In modo tale che sta questione bollente sia un problema solo ed esclusivamente nostro. Mica penserete veramente che in Europa ci tengono perché semmo bravi. Mica penserete veramente che ci considerano talmente tanto bravi da dà addirittura fastidio. Mi viene anche a ridere! In Europa te permettono di mangiare a tavola con loro e di farvele foto insieme proprio perché la questione migranti di Italia devi smazza a te. L'Italia non assolve alcun altro ruolo. Pensare che un po' di anni fa sembravano perfettamente consapevoli desta cosa. Ma poi sono arrivati al governo. Come glielo dici a una nazione che per arrivare alla portrona hai abbassato la testa a una condizione che sapevi benissimo essere gregaria? E' tosta eh? Soprattutto dopo che per anni hai sbandierato ideali di sovranità. Chi dovremmo dà fastidio? Quali sono sti poteri forti a cui staremmo pestando i piedi pagandone le conseguenze? Letteralmente la yes girl europea. Mi hanno detto che linea a tenere in Europa e ha detto sì senza battere ciglio. Mi edettano le linee da tenere in politica estera e dice di sì senza battere ciglio. Sanzioni alla Russia contro ogni interesse nazionale? Yes sir! Devi parlare solo con i dittatori che ci piacciono a noi? Yes sir! Però mi pare che poi noi parliamo benissimo con altri dittatori fingendo che non lo siano. E diciamo che sta selezione al tavolo tra chi è dittatore e chi no che fanno l'Europa e gli Stati Uniti non mi pare proprio attendibilissima. La dimostrazione è proprio la questione migranti. Sono anni che l'Europa e l'Italia danno fondi e mezzi alla cosiddetta guardia costiera libica nella speranza che argini i flussi migratori. Mentre invece quelli li usano come arma di ricatto politico internazionale. E la Libia non mi pare che sia sto Eden de democrazia. Soprattutto dal 2011 dalla morte di Gheddafi a cui sussegue una guerra civile pressoché ininterrotta con tutte le conseguenze migratorie che ne derivano. Altro episodio in cui ci siamo genuflessi per fare il piacere alla Francia e allo zio Sam. Una condizione disastrata in cui noi abbiamo contribuito con il nostro tacito assenso. Sempre perché totalmente incapaci di tenere la schiena dritta nei confronti di qualcuno. Caduta di Gheddafi in cui noi avevamo tutto da perdere e loro, quelli a cui abbiamo fatto il favore, tutto da guadagnare. Tenesimo episodio di Gregarietà. Artro che fastidio. È dal 2023 che in Tunisia conduciamo accordi simili a quelli libici. Non mi pare che lì ce sia tutto sto miracolo democratico. Quindi mi piacerebbe capire in che modo stiamo dando fastidio. Quando stiamo letteralmente lì a far compitino per poi piagnucolare se non ci dicono bravi. E ci sarà sicuramente qualche genio che dirà Beh, stiamo dando fastidio per il piano Mattei della Meloni. Piano Mattei della Meloni come forma di contrasto all'immigrazione. L'ingenuità di qualcuno è quasi tenera. Se pensate che il piano Mattei della Meloni abbia come centro veramente la questione migratoria, allora davvero siete teneramente ingenui. Mica stiamo a parlare del piano Mattei quello vero, quello che puntava alla sovranità energetica e un rapporto di scambio alla pari e rispettoso degli equilibri e del benessere dei paesi africani. Il piano Mattei della Meloni è ben altra cosa. E' un altro di quei grandi piani orchestrati affinché se speri che di fronte alla cieca obbedienza e fedeltà ci venga riconosciuta qualche briciola in cambio. E usare il nome dei Mattei in senso propagandistico non è che è garanzia della qualità del piano Meloni. Il piano Mattei della Meloni è l'espressione suprema della gregarietà italiana. Che dopo essese autocastrata sulla questione del gas, sempre per far contento nonno Biden, adesso spera di costituirsi come hub energetica nel Mediterraneo. Il piano Mattei punta a prendere il gas dall'Etiopia, dall'Algeria, dalla Libia, tutti i territori dove il nome di Enrico Mattei ha un peso importante. Ci sono piazze e strade intitolate Enrico Mattei. E questo fa una certa presa, in senso propagandistico, ma appena ci dicono che il piano si è mirato appunto a creare questa hub energetica nel Mediterraneo, a campare di rendita della nostra collocazione geografica, quello che si scordano deliberatamente di dirvi sono le parole che si sono detti Biden e la Meloni a Washington. Cioè che questo snodo energetico che l'Italia si professa di realizzare nel Mediterraneo in realtà torni molto comodo agli Stati Uniti e a una dislocazione della NATO nel bacino Mediterraneo. Che il piano fosse quello di rendere l'Italia una stazione di servizio nel Mediterraneo al soldo degli Stati Uniti era già evidente prima del governo Meloni. Quando già Draghi si recava in Algeria, aveva battezzato l'Algeria come uno dei primi fornitori. Ora, se non siete totalmente dormienti, lo capirebbe anche un bambino che il disegno era già perfettamente tracciato. Serve solo portarlo a compimento. Così come dovrebbe apparirvi evidente che questo do ut des non è basato su uno scambio alla pari e vantaggioso per entrambi. Il motivo è molto semplice, l'instabilità dei paesi coinvolti, che renderanno pressoché impossibile mantenere la genuinità delle intenzioni, ennesima condizione in cui noi abbiamo tutto da perdere e loro tutto da guadagnare. Quindi a chi dovremmo dar fastidio se siamo delle obbedienti pedine? Mattei se starà a rivoltà nella tomba. A dare fastidio non sono le politiche assolutamente non fastidiose nei confronti di chi governa veramente in Italia, cioè tutti tranne che noi. A dare fastidio sono le scuse pietose e indegne di questa politica costantemente asservita che di governo in governo svende sempre di più l'Italia della sua sovranità. E a dar più fastidio è il fatto che a farlo sia chi sbandierava idee di sovranità. Smettiamola di prenderci in giro per una buona volta. La volete sapere la differenza tra uno stato gregario e un paese sovrano? Pronto Ursula, so Giorgia, che te prendi i migranti te? Assolutamente no! Eccola la differenza. Però mi raccomando continuate a raccontare che state dando fastidio a qualcuno. Tanto il fessacchiotto di turno che veda retta si trova sempre. Nel frattempo la situazione peggiora di ora in ora. Lampedusa è nel caos. Un caos che è la manifestazione, il sintomo della malattia. Ma non è la malattia. La malattia si chiama gregarietà. Quella roba che svende i popoli. Tutti. I loro popoli che scappano nella disperazione di politiche selvagge adottate con la nostra compiacenza e servilismo. Noi, popolo italiano, ostaggio di queste politiche corrotte. La misura è colma. Provate almeno a dire qualcosa che non sia un palese insulto della nostra intelligenza. Iscriviti al mio canale YouTube e agli altri indirizzi social che trovi qui. Se puoi sostenere il progetto Pabbole, un semplice caffè. Una piccola donazione all'Inpepol che trovi qui sotto. Ciao e a presto. Grazie. 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 Grazie.